buongiorno ragazzi benvenuti o bentornati in questo nuovo video oggi volevo appunto parlarvi di una notizia che ho preso qualche giorno fa perché l'uscita di questo video ormai è già passata relativo al nuovo firmware della nostra Icos 3 Duo detto questo ragazzi volevo fare questa verifica insieme a voi e portarvi questo tipo di contenuto sul canale ricordo che chi non ha android può usufruire l'app widget chiamiamolo di windows basta semplicemente allora per chi ha android va sullo store scrive Icos app collega tramite bluetooth l'app e via a posto io l'ho fatto col cellulare di mia moglie e vi posso dire che si collega in un attimo ci sono giusto due passaggi c'è una roba molto veloce da una guida tra virgolette che ti dice esattamente quello che devi fare quindi non ti puoi sbagliare per chi invece è un utente iOS come me possiamo usufruire di windows windows è molto semplice andare a scaricare questo widget di windows perché basta andare sul sito di google.it scrivere Icos software vi viene fuori questa pagina dove dovete cliccare voi scegliete windows e via vi scarica il programma in poche parole vi chiedo scusa per questa schermata che è il programma che utilizzo per registrare i video ma non sapevo come coprirlo perché adesso vedete che il widget si va a come dire viene riproposto per infinite volte allora apriamo il nostro widget qua ovviamente c'è il mio dispositivo che è un Icos 3duo ovviamente ci sono tutti i miei dispositivi dal 2.4 plus alla 3 ultima a noi quello che ci interessa è la 3duo quindi impostazioni del dispositivo andiamo dentro a vedere qua ci dice info e firmware il tuo dispositivo Icos è stato installato all'ultima versione del firmware quindi tutto questo bordello non lo so perché ho letto questa notizia e sinceramente pensavo di trovare un nuovo firmware vabbè detto questo quest'app questa questo widget visto che il firmware è a posto non lo so vedremo magari faccio qualche altra prova nei prossimi giorni se dovesse uscire effettivamente questo firmware nuovo io ve lo faccio sapere in virtù di questo ragazzi magari seguitemi su instagram che mi viene più semplice indicare queste cose che fare un video dedicato su youtube però mi interessava portarvi questa questo video perché è sempre comunque interessante sapere che la nostra Icos è dotata di un firmware aggiornabile direttamente dalla azienda poi del perché lo vada ad aggiornare molto probabilmente ci saranno delle nuove cose che usciranno questo non lo so forse per sistemare un attimino il calore della lamella piuttosto che tante cose possono riguardare un firmware detto questo ragazzi allora il widget in realtà che cosa ci serve l'app secondo me è molto ma molto ma molto più completa su android perché è possibile fare una pulizia automatica cioè io quasi vedete su windows non ci fa la pulizia automatica invece su android ce la fa nell'immediatezza appena si collega la roba ci fa questa pulizia automatica allora vibrazioni praticamente abbiamo vibrazione carica off on vabbè quando attacchiamo il dispositivo in sostanza vibra io ce l'avevo impostato su non so se molto probabilmente varierà la durata della batteria ma poco mi importa quindi nell'holder ci vibrerà nel momento che noi attacchiamo il il cavettino durante l'uso invece abbiamo quattro tipi di vibrazioni l'avvio al riscaldamento che è ottimo perché ci dice esattamente quando la lamella si è riscaldata al cento per cento e possiamo iniziare la nostra fumata scusatemi quando la noi attiviamo laicos quindi vibra e sappiamo che dobbiamo togliere il dito quello dopo è pronto all'uso pronto all'uso vibra e noi iniziamo a fumare quasi terminata non è male ma soprattutto l'esperienza terminata perché io questo ho trovato beneficio nel metterlo in on perché so che quando ho due vibrazioni tra una e l'altra so che ho finito di fumare basta chiuso questo ci serve in poche parole quindi qualcosa possiamo fare con con questo widget dalla pulizia automatica che purtroppo io su windows non sono riuscito a farlo quindi gli utenti android sicuramente riusciranno a farlo la gestione di tutte le vibrazioni la modalità illuminazione quindi diminuisce la luminosità del led mentre il dispositivo è in carica durante la notte e questo ragazzi non è non è male perché vedere quel lampeggio che ci stressa ogni qual volta e tua moglie ti dice metti nel cassetto la roba non è non è male io ce l'avevo al 100% e sinceramente la mettiamo al 50% quindi evitiamo eventualmente le bestemmie della moglie in più c'è una una bella bella cosa che è l'info quindi che tipo di dispositivo stiamo utilizzando il numero qua del codice io non so se questi dati sono privati ma poco mi importa cioè non c'è niente da nascondere in più la l'account entra in incos club bla 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 e qua abbiamo domande frequenti quindi la mia app per desktop andiamo a cercare praticamente quello che ci interessa noi andiamo a digitare e troviamo le impostazioni quindi notifiche quant'altro informazioni sull'app icos widget paese italia bene informazioni importanti boh vabbè sinceramente il video era partito in un modo e lo finiamo in un altro perché pensavo pensavo fosse uscito un nuovo firmware magari uscirà nei prossimi giorni è una notizia magari che mi è arrivata troppo o meglio l'ho letta magari io troppo presto però ne approfitto per fare un video sul discorso widget di windows che detto tra noi è un qualcosa che ci può servire nella durata e magari in manutenzione soprattutto per questa pulizia automatica nella manutenzione della nostra icos niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto sia utile per il funzionamento delle delle vostre icos detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando continuate ad iscrivervi al canale lasciate un like ovviamente se la cosa ti interessa e ti è piaciuto so che magari chiedo scusa per tutte queste 200 finestre però non sapevo come fare una presentazione migliore ovviamente sito della icos non da fastidio a me quello che mi interessava era un po la il widget di windows quindi ragazzi condividi il video se vuoi far conoscere questo widget ovviamente a chiunque condividete il video cercate di dirgli anche perché non ti iscrivi detto questo ragazzi io direi che ci vediamo al prossimo video mi raccomando domani ulteriore video può esserci qualche novità non lo so al prossimo video ciao